Ciao a tutti da Maurizio di Moto.it, benvenuti su Recensito. Oggi parliamo di lei, la Zephyr HP di Ixon, che è una giacca, un prodotto interessante per quattro motivi. Il primo è impermeabile, poi vi terrà caldo grazie all'imbottitura, è traspirante, terzo motivo, e quarto motivo che è anche ventilata per via delle prese d'aria che adesso vi andremo a mostrare. Però analizziamo nel dettaglio, come sempre, questa volta però partiamo dall'alto e scendiamo verso il basso, così non dimentichiamo niente. Partiamo dalla parte più alta, il collo, come da tradizione Ixon, il collo è ben rifinito, è molto morbido e dopo ve lo farò vedere indossandolo. Poi abbiamo la cerniera, anche in questo caso, sempre come da tradizione Ixon, è molto curata, ovvero abbiamo il blocco in gomma della cerniera e poi la cernierina con la presa in materiale duro, bella larga e così anche con i guanti indossati non avrete problemi. Scendendo verso la parte un po' più bassa, notiamo intanto gli elementi riflettenti e poi, sempre scendendo, notiamo delle piccole grafiche in gomma, un po' più dura, quindi bello anche al tatto, e poi scendendo abbiamo le prese d'aria delle quali vi parlavo, quindi abbiamo due prese d'aria anteriori, le potete vedere qua, e poi abbiamo le tasche che sono verticali e molto molto capienti. Vedete, guardate, ci sta più di una mano e lo spazio all'interno è davvero abbondante. Chiudiamo la cerniera e troviamo le regolazioni delle maniche. Regolazioni delle maniche che sono di tre tipi. Abbiamo quelle a cinghiolo, nella parte più alta, poi abbiamo quella con gli automatici, nella parte mediana, e poi abbiamo il velcro nella parte più bassa. Non abbiamo la cerniera, però vi garantiamo che va benissimo così, perché alla fine basta e avanza questo velcro con sempre una piccola presa in gomma. Nella manica notiamo un'altra cosa, ovvero le altre prese d'aria, perché abbiamo detto che le abbiamo sul petto e poi le abbiamo anche sulle maniche, quindi per migliorare la ventilazione anche sulle braccia. Giriamo la giacca e vediamo cosa c'è alle spalle, quindi abbiamo le prese d'aria in estrazione, poi abbiamo la parte elastica per migliorare il comfort, perché ricordiamolo, non l'abbiamo ancora detto, le maniche sono preformate, quindi mantengono la posizione piegata e quindi la parte elastica dietro agevola molto i movimenti. Scendendo notiamo le regolazioni in velcro della parte bassa, quindi della vita, per migliorare la vestibilità anche sul corpo. Ma andiamo a vedere all'interno. Apriamola e vi farò notare una cosa molto interessante che ci permetterà di capire che realmente la qualità di Hickson è molto elevata e soprattutto la tensione ai particolari. Perché? Perché come potete notare c'è il doppio bavaro e fin qua niente di particolare, però c'è anche il bordino che è una sorta di canalina frangigoccia, quindi l'acqua non entrerà mai all'interno perché rimbalzerà su questo bordino e poi scivolerà verso la parte più bassa. Ma andiamo ad indossarla per vedere com'è questa Zephyr HP, che ricordiamo è a tre strati. Abbiamo lo strato più esterno, poi abbiamo l'imbottitura per il freddo e poi abbiamo anche la membrana che è traspirante ma resiste all'acqua. Mettiamola sul tavolo e vediamo subito una cosa, la taschina che è waterproof, adesso vediamo se riesco a mostrarvela così, taschina sul lato sinistro, davvero molto capiente, guardate, adesso vi faccio vedere, entra più del polso, guardate, veramente molto capiente, quindi ci può stare tantissime cose. E poi abbiamo nella parte più esterna della giacca, abbiamo un'ennesima tasca nella parte retata per contenere degli oggetti e poi anche sul lato destro. Sempre sulla parte più esterna notiamo la predisposizione per il paraschiena, adesso vediamo se riesco ad aprirla per farvela apprezzare, ok, questa ecco la predisposizione per il paraschiena e poi abbiamo la cerniera per attaccare l'eventuale pantalone. A proposito di protezioni, non dimentichiamoci che la Zephyr HP ovviamente ha protezioni sulle spalle e poi sui gomiti, protezioni rigide. Adesso andiamo ad indossarla per capire com'è la sensibilità di averla addosso. Ed eccola indosso. Quella che sto provando è una taglia M e se notate è perfetta. Sotto ho anche una felpa, quindi davvero una taglia ottima per la mia persona, sono alto 1,80. E di solito il problema che ho è sempre quello delle maniche, perché sono piuttosto asciutto di fisico, ma le maniche mi sono sempre corte. Invece in questa giacca, guardate, è davvero perfetta, quindi bravi, bravo il designer e soprattutto chi ha studiato l'ergonomia. La sensazione che si ha è davvero confortevole, non ci sono punti che tirano più di altri, le protezioni non si sentono, le maniche preformate funzionano bene, adesso bisognerebbe provarla in moto, però diciamo che il comfort e la sensazione è davvero ottima. Anche la parte alta, quella del collo, che di solito infastidisce un po' quando si sta un po' piegati, non mi crea problemi. Come dicevamo all'inizio, il collo è molto morbido, anche se la utilizzerete d'estate, quindi senza la felpa, senza l'imbottitura e senza la protezione per il vento, per la pioggia, non vi creerà problemi sul collo anche se non indosserete un salvacollo. Non ci rimane altro che dire le ultime cose, ovvero i colori sono tre e poi il prezzo che è di 249,90 euro, un prezzo davvero concorrenziale pensando alla qualità che vi abbiamo appena descritto. Poi se siete rimasti incuriositi da questo prodotto vi consigliamo di andare a visitare il sito di Hickson che è www.hickson.com e poi se avete voglia di vedere altri prodotti o avete delle domande su questo prodotto o sugli altri che mostriamo qui a recensito vi invito ovviamente a scrivermi come sempre fate, sarà un piacere rispondervi. Ciao a tutti da Maurizio di moto.it e vi aspetto alla prossima puntata di recensito.